Salve a tutti i ragazzi, state vedendo a WeWoo... Ah! Satomo! Che luscia! Cioè, io so quello che gli ha nato più di lui sui capelli chiari, cioè quello che ha a marzo. Quello lungo lo vedi per fattore? Di quei capelli legati dietro. Potrebbe essere quello che c'è il codino. Vai! Sembra in buona domestica! È cicciolina! Babbo vorrei mettere la roba e fa' meganne, dai! Non l'hai vista il video che l'ho spubblicato su Facebook? No, non l'ho vista! Ma ci sei anche tu! Vado? Action! Momento della verità! Trucco da fantasmi! Non si vede più di tanto! Come fanno a vedersi? Più che altro non è corretto che io mi faccia il backstage da solo! Eh, è lei sta giocando il virus! Tadà! Ragazzi, se continui a mettere... Oh, zoom! Non ce ne credo! Non ce ne voglio credere! Ragazzi, sta girando! Ce ne voglio credere! Teppoverso! Teppoverso! Non ce ne voglio credere! Ma dove sta? Io odio il Natale! Ma dove sta il... Questo è il Natale! Durincoianiti! Cosa ti piace? È un momento di pace e di unione delle famiglie, penso! Senti, ma se mi sbatto sto cappellino, che se ne frega! C'è un po' Emile, ma va bene! Come sono? Decisamente ottimo! Oh! 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 Povera fessa! Riti il fagno che non posso muare! Mi serve del cibo! Guarda, del cibo! Guarda che bella bocca, V! A bordo! I love this music! Come è? Ce ne aiuta che è una zucchina? Non è? Non è un senso! Guarda che sta! Ah, vabbè! Alla fine c'è stata! Ah, c'è stata! Ma c'è stata! Ma c'è stato sexy! Eh, fammi un po' sentire! No, no, aspetta, aspetta, quasi quasi! Quasi quasi! Quasi quasi! Quasi quasi! Quasi! Sì! Guarda! Forza che è una siringa strepita! It's Christmas time! Sì! Ma! L'ho sparata una sirugata! Per l'occhio! Bella! Boh! Ma te la sei mette? Ragazzi, son nostro! Son chirurgo con la cravatta! Mentre me la metto, se potevi, seziona pure! E' un po' vedo! Eeeeee! Ma che cosa è la talizia? Ma no! Che stricche così! A te la barba del babbo Natale! E' un po' di usci! Che c'è stai incontaggando? Che cazzo ti devo raccontare? Vabbè, l'abbiamo finito! L'abbiamo finito! Niente, avete visto il secondo backstage del Wilbush, direi! E niente, vi ringrazio per aver visto! Luca, vorrei che stai a la dici a farti giro così! Vabbè, stai a farti giro! Vi ringraziamo, questo è tutto per stasera! Alla prossima appuntamento! Grazie!